Banca Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria in ragione delle perdite patrimoniali. Si tratta dell'istituto bancario che nel 2016 ha acquisito la Tercas, la ex cassa di risparmio della provincia di Teramo, territorio dunque legato a filo doppio economicamente e per i livelli occupazionali alle vicende baresi. Ai commissari Enrico Aiello e Antonio Blandini, assieme ai componenti del Comitato di Sorveglianza Lidia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso, viene affidato il compito di predispondere le attività necessarie alla ricapitalizzazione e di finalizzare le negoziazioni con i soggetti che hanno già manifestato interesse all'intervento di rilancio, cioè il FITD e Medio Credito Centrale. Ma il governo del CDM convocato ieri a tardasera non ha emanato alcun decreto per il salvataggio dell'istituto barese. Emergono tensioni nella maggioranza con i distinguo di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle. Dopo ampia discussione, il Consiglio dei Ministri ha espresso la determinazione ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud, in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della Banca Popolare di Bari. Lo si legge nella nota del Consiglio dei Ministri. Ogni decisione è rinviata a lunedì. La banca prosegue regolarmente la propria attività. La clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia e il messaggio tranquillizzante lanciato dalla banca. Il progetto del governo è quello di salvaguardare non solo la popolare di Bari, ma anche quello di creare una banca di investimento per accompagnare la crescita e la competitività delle imprese con particolare attenzione al Sud. La banca è in condizioni gravissime e sottoposta alle indagini della magistratura che sta verificando la corretta gestione nel corso degli anni. BPB è il primo gruppo creditizio autonomo del mezzogiorno ed è tra le 10 maggiori banche popolari italiane. Dispone di una rete di oltre 360 filiali dislocate in 13 regioni. I dipendenti sono circa 3.300 e circa 70.000 soci. La banca ha chiuso il primo semestre del 2019 con una perdita netta di 73,3 milioni. La semestrale vede inoltre rettifiche su crediti per 44,2 milioni. Serve un aumento di capitale fra 800 milioni e un miliardo dopo un piano di ristrutturazione che prevede tra le altre cose circa 800 esuberi, secondo l'amministratore delegato Vincenzo De Bustis. I 70.000 azionisti di Popolare di Bari rischiano di perdere i loro investimenti nel salvataggio.